Lo street food a Casal Maggiore era arrivato le ultime volte tra la primavera e l'estate, ma questo weekend, probabilmente per il traino della superbike, ecco che Piazza Garibaldi torna ad ospitare questa esperienza che ha insieme culinaria e per certi versi di socialità. Sabato, domenica e lunedì, tre giorni di eventi in centro storico con la particolarità di ospitare banchetti e dunque cibi internazionali dunque provenienti da tutta Europa e dal resto del mondo. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Casal Maggiore con l'appoggio di Confartigianato Cremona. Sabato ci si concentra esclusivamente sulla sera, dunque cucine aperte dalle ore 18 fino a mezzanotte, mentre domenica e lunedì l'impegno prevede anche il servizio per il pranzo con l'orario continuato da mezzogiorno a mezzanotte. L'ingresso in piazza è ovviamente gratuito, dunque nessuno sbarramento, con la possibilità di pranzare e cenare assaggiando ricette e pietanze che giungono da tutto il pianeta. Non manca in appoggio la regina di queste feste, ossia la birra rigorosamente artigianale, dato che sono stati invitati non grandi marchi commerciali ma micro birrifici made in Italy e anche stranieri. E ancora dolci tipici della tradizione italiana e internazionale in aggiunta alla possibilità di mangiare cibi e birra senza glutine. Domenica 22 l'evento clou collaterale si tiene al mattino con il ritrovo di auto e moto d'epoca sull'istone di Casal Maggiore, essendo il weekend della superbike per il Casalasco il rombo dei motori ci sta decisamente bene.